Una Pasqua blindata con controlli rafforzati su strade e centri urbani per evitare assembramenti e rischiose tavolate. Tre giorni di zona rossa in tutta Italia prima di tornare, almeno così è per il Molise, a partire da martedì in zona arancione. Vietato uscire dunque in questi giorni di festa se non per incomprovate esigenze con la sola eccezione di una visita al giorno a casa di parenti o amici, in massimo due persone oltre i figli con meno di 14 anni. E anche in queste ore di festività pasquali non si ferma il lavoro degli operatori sanitari. Il bollettino ASREM segnala nelle ultime 24 ore 40 nuovi positivi su 551 tamponi processati e dunque un tasso di positività al 7,2%. Ci sono anche tre vittime, tutti i pazienti che erano ricoverati al Cardarelli, due 84 anni di Fossalto e Porto Cannone, un 73enne di Cantalupo. Sul fronte dei contagi nei comuni dati più alti a Campobasso con 11 casi, poi Isernia con 6 e Santa Croce di Magliano e Termoli con 4. Nel bollettino ci sono anche 58 guariti. Continua a migliorare la situazione negli ospedali. Il totale dei pazienti ricoverati scende a 64, di questi 15 sono in terapia intensiva.